Adale ci si vuole bene ma dov'è? Ah è una torre davanti a me Ah c'è un conto da Com'è che andrà? Com'è che andrà? Com'è che andrà? Com'è che andrà a spada in diamante? Andrà dove l'hai rubata? Sentiamo Non l'ho rubata Com'è andrà se sei girato 5 notti fa e se senza armature hai già la spada in diamante? No c'era tipo danno che mi ha dato due blocchi di diamante prima Ah ladro ladro di merda E poi si dici di iron se vuoi chiediglielo quando si connette chiediglielo quando si connette Andrà ladro di merda Ma cosa ladro di merda? Andrà a rubato gli diamanti Tu scherza E infatti? 16 No non so sono 19 18 perché mi son fatto la spada in diamante e ne ho ancora 16 Minchia sono 16 No sono 19 Ah senza vero sono 9 vlog Sono 9 vlog Guarda che sono 19 ah Non sono 16 sono 19 Sì è come fossero i cacciatori senza denti Cioè minchia uno sbaglia poi l'altro per correggere lo sbaglia pure madonna mia Oh minchia è un sacco quando non gioca minecraft E' un sacco quando non gioca E' un sacco quando non gioca E' un sacco quando gioca E' un sacco quando gioca